Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi terza puntata dei consigli di Laura. Di cosa andiamo a parlare oggi? Di un antibiotico naturale da prendere in primavera e in autunno. È veramente un tocca sana e il rimedio contro la mal di gola sono consigli della nonna. Andiamo a vedere di cosa si tratta, ma prima sigla! Come fare un antibiotico naturale che ti dia quella sferzata di energia per affrontare l'estate o per affrontare l'inverno? Io l'ho provato e da tanti anni e devo dire che non mi sono mai ammalata. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questo abbiamo finito, spero che questo video vi sia piaciuto. Un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e ciao! Al prossimo consigli!